Musica Vivere sulla propria pelle la fatica di muoversi in carrozzina per la città, sfidando le varie barriere architettoniche, da quelle più evidenti e declatanti a quelle meglio celate e più subdole. Fuori percorso l'esperienza sul campo, che consente a chiunque di condividere le difficoltà dei diversamente abili, salendo su una sedia a rotelle e percorrendo le strade triestine, avvertendo le difficoltà quotidiane dei portatori di handicap, ha visto prendere vita la quarta edizione nei giorni scorsi. L'azienda sanitaria universitaria integrata ha messo a disposizione una trentina di sedia a rotelle. Altrettanti triestini normodotati hanno potuto capire che uno scalino, ma anche semplicemente una buca, di per sé trascurabili, possono trasformarsi in una barriera architettonica persino insormontabile. L'itinerario, da Piazza Unità a Piazza Venezia, lungo Cavana, il progetto ha dato vita ad un percorso di scrittura creativa, iniziativa aperta a tutti i giacchi e mirata all'inclusione e all'integrazione. Pino Roveredo, l'iniziativa è giunta al quarto anno ed è un'iniziativa, sotto certi aspetti, unica. Assolutamente unica, poi nata nel gruppo, perché noi facevamo scritture, invece volevamo far provare materialmente cosa vuol dire una fatica, la fatica della carrozzina, anche per sopperire a certe indifferenze. Sembra strano che sotto certi aspetti l'unico modo per sensibilizzare l'opinione pubblica su un determinato problema sia quello di far provare in che cosa consiste parte del problema. Sì, perché sennò è difficile da comprendere, io dico sempre che la disgrazia non ha mete prestabilite e quando ti tocca fa male, allora forse è meglio conoscerla prima, portargli anche rispetto soprattutto. C'è anche un discorso di scrittura creativa? Assolutamente, poi loro sono molto più osservatori di noi purtroppo e raccontano delle cose che noi non vediamo perché viviamo di fretta, loro non si possono permettere una fretta e riescono ad essere molto più osservatori di noi e scrivono benissimo. C'è anche chi dice che ci sono delle barriere architettoniche che sono evidenti, che sono palesi, eccetera. Sono poi delle barriere architettoniche ancora più insidiose perché non si vedono, perché sono difficili da scorgere e quindi per questo sono ancora più, virgolette, pericolose e insidiose. Sì, io le chiamo le ottusità, le ottusità mentali o le barriere mentali, però questo gruppo le sta abbattendo, abbattendo in maniera spontanea, ti faccio un esempio, abbiamo fatto una rappresentazione in carcere, due fatiche che si incrociano, che si incontrano, dall'altra parte erano assolutamente emozionati e hanno avuto anche il tempo di riflettere, ripeto, su certi percorsi. Qual è la genesi dell'iniziativa? La genesi dell'iniziativa nasce da un progetto fatto con l'azienda sanitaria, l'Azuit, odierna, che ha progettato questo lavoro di scrittura creativa con Pino Roberedo che ha unito queste persone con disabilità che hanno potuto, con questo progetto, esprimere i loro pensieri, le loro difficoltà e questo è un gruppo integrato, un gruppo che è libero anche per le persone che non hanno disabilità e ha permesso di far lavorare insieme le persone disabili con le persone non disabili, c'è un tentativo di integrare le persone. Nasi questa iniziativa dal fatto che questo gruppo voleva far capire un po' a tutti, sensibilizzare la popolazione al fatto che la città non è sempre usufruibile per tutti, è piena di barriere architettoniche e anche fare cose molto semplici come andare in un semplicissimo negozio, qui c'è per esempio un altro negozio qui vicino con degli scalini, non è più accessibile perché le persone non riescono a usufruire come noi che abbiamo la possibilità di deambulare normalmente. Venire incontro ai cittadini che non stanno bene, mettendo le persone che stanno bene nella loro stessa condizione. È il quarto anno che noi facciamo questa iniziativa, che ormai si è consolidata come un'iniziativa importante di condivisione di esperienze, di percorsi di vita e di solidarietà alle persone che hanno sfortuna, che hanno avuto sfortuna nella vita e il modo attraverso il quale riusciamo a stargli vicino è metterci nei limiti del possibile nei loro panni, che è una cosa che invito tutti i cittadini a fare una volta ogni tanto, che fa bene a tutti. È anche vero che un mondo libero da barriere architettoniche, ed è un paradosso, aiuta anche le persone che stanno bene, cioè un percorso facile per una carrozzina è un percorso facile anche per una carrozzella. Assolutamente, è un argomento che è venuto fuori nel gruppo, che diceva, beh ma dove io non posso entrare fa difficoltà anche una carrozzina con un bambino, ed è vero, nel senso che una carrozzina per un disabile ha le stesse difficoltà di una carrozzina con un bambino, rendere la città fruibile per tutti, direi quasi un dovere ormai. Noi possiamo progettare le città in maniera diversa e avere pari opportunità. Un'iniziativa, un'operazione la cui parola d'ordine è sensibilizzazione. Bravo, ottimo. Vedi, in Germania non abbiamo tutte le leggi che abbiamo in Italia e in Germania, credimi, non ci sono barriere architettoniche. Basterebbe usare il buonsenso quando si costruisce qualcosa, quando si apre un bar. Guarda, il buonsenso sarebbe sufficiente. Se andate, mi rivolgo ai cittadini, all'Istituto Ritmeier, vi renderete conto di cosa si parla. Lì non c'è nessuna barriera architettonica ed è fatto a piani. Io credo di rappresentare effettivamente una fetta di questa popolazione, nel senso che purtroppo guido una carrozzina da 27 anni. Ed è chiaro che la conoscenza è la migliore arma per sensibilizzare la città. Dove vive un disabile vivono meglio tutti quanti i cittadini. Dobbiamo pensare certamente alle carrozzine delle persone con disabilità, ma pensiamo alle persone anziane, alle carrozzine dei bambini, pensiamo a dei percorsi che siano facilitati per tutti e tutta la città deve essere resa accessibile per tutti. Noi abbiamo nel gruppo diverse persone che hanno colpite da malattie diverse, di diversa zilogia. Una malattia che colpisce anche persone molto giovani, la sclerosi multipla ad esempio. È una malattia purtroppo molto diffusa. I primi sintomi non sempre sono così visibili, sono subdoli. Purtroppo le persone soffrono di queste situazioni perché anche il non deambulare bene in un inizio può essere frainteso dalle persone come qualcosa di diverso ed imbarazzare le persone perché la persona non è su una carrozzina, ma cammina, ma magari cammina male. E quindi si etichettano le persone senza sapere bene quali sono i sintomi. Di questo queste persone soffrono molto. Quindi anche sensibilizzare le persone e la popolazione che esistono malattie, che hanno delle evoluzioni di questo tipo e che è molto difficile vivere con questa realtà e quindi conoscere vuol dire anche rispettare queste persone e ci permette anche di lavorare in maniera diversa. Che cosa significa assistere una persona disabile? Cosa significa vivere con una persona disabile? Deve essere senti quasi come lei tutto. Vivi la stessa vita, non facciamo un'altra vita, è la stessa. E dopo deve essere molto umane per capire una persona disabile anche che non si muove, non si muove, non parla, non deve capirlo con il sguardo. Sì, a me piace perché anche che sono da sola, non ho marito, ho figlio qua, posso stare tranquilla 24 ore di 24, solo che vivo la stessa vita come lei. È difficile? C'è anche difficile, a un certo punto sei un po' come... Diciamo, ti senti uguale come lei, solo che sono anche satisfazioni di un punto di vista professionale che lei sta molto bene, molto allegre, c'è la volea di uscire, usciamo insieme, io aiuto in tutto, vado con lei al medico, dappertutto. E ci sono problemi però per spostarsi? Sì, 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 ci sono, solo che noi adesso abbiamo questa fortuna che abitiamo in piazza de Gaspari, il Podrom, abbiamo 18, abbiamo tessere su quest'autobus che c'è sempre la pedana, sono molto gentili autisti e veniamo quasi tutti i giorni qua, quasi tutti i giorni, sì. Fuori percorso è promosso dalla cooperativa sociale Reset, dal Comune, da Trieste Abile e dall'azienda sanitaria universitaria integrata.